Le professioni, come le conosci oggi, diventeranno irrilevanti. Quindi molti di voi saranno senza occupazione, a meno che non facciate qualcosa che una dannata macchina non può fare. Devi essere dotato di qualcosa che vada oltre il tuo intelletto. Solo allora sarai rilevante. Allora l'intelligenza artificiale non ti darà fastidio. Quindi, nel mondo tecnologico di oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale e la robotica stanno prendendo il sopravvento. Sono le tecnologie all'avanguardia. Quindi, cosa ne pensi dell'interazione di tali tecnologie, dell'intersezione di queste tecnologie con delle pratiche antiche, quali le meditazioni e lo yoga? Sei sicuro che io sia reale? Perché, nell'ultimo anno e mezzo, mi hanno invitato a parlare in ogni tipo di conferenze sull'intelligenza artificiale nel mondo. Sono rimasto davvero sorpreso, perché chiedono a me di andare a parlare di intelligenza artificiale, visto che non sono un esperto nel campo. Non sono nemmeno un'intelligenza artificiale. Quindi, ho chiesto loro, in una delle conferenze, era a San Pietroburgo, ho detto, perché mi state invitando a tutte queste conferenze sull'intelligenza artificiale? Sono un'intelligenza naturale, non un'intelligenza artificiale. Hanno detto, il problema è, cosa faremo? Perderemo il nostro lavoro? Questi sono tutti professori in grandi università, all'MIT, a Harvard, in questo tipo di posti, e chiedono a me, cosa faremo tra altri dieci anni? Perché tutto quello che conosciamo, tutto quello che era sacro finora, all'improvviso sarà lì, in un piccolo dispositivo. Devi capire questo. Intelligenza artificiale significa che accumulare informazioni, analizzarle e proiettarle come vuoi in un determinato momento, non sarà più considerata una cosa di valore per le facoltà umane. Perché un semplice dispositivo lo farà molto meglio di qualunque essere umano. Già quella signora di Google sembra più intelligente di chiunque di voi, non è così? Che sembri più intelligente di me, va bene, io non sono istruito, ma voi, ragazzi, sembra più intelligente di ciascuno di voi, no? Qualsiasi cosa le chiedi senza battere ciglio, lei ce lo dice. Quindi ci dirigiamo verso il punto in cui tutto ciò che fa intellettualmente sembrerà stupido o senza senso. Questo mi è successo quando avevo circa tredici anni, penso, tredici o quattordici, tredici, penso. Per la prima volta vidi una calcolatrice piatta, La calcolatrice Panasonic, la conosci? A quei tempi costava 100-110 rupie, era molto cara. Be' un caffè, ti costa di più oggi. Ma la Panasonic da 110 rupie, la Sonic costava 125, quindi compravamo la più economica, la Panasonic da 110 rupie. Me la fanno vedere, io non ne ho mai comprate. Qualcuno me ne portò una e me la fecero vedere. I risultati. Il primo pensiero che ho avuto è stato perché diamine spreco il mio tempo a lezioni di matematica. Ho detto, mi serve solo questo, così non devo andare a lezioni di matematica. Qualsiasi domanda tu faccia. Una cosa da 100 rupie può dirtela. Perché questa tortura per dieci anni, facendo questa aritmetica e matematica e cose di ogni tipo, può calcolare persino seno, tangente, coseno, qualsiasi sordità tu voglia. Poi ho pensato, dobbiamo costruire una grande macchina che faccia tutte queste stupidaggini, così che non dovrò andare a scuola. Infine, il sogno diventa realtà. Nei prossimi dieci, quindici anni, l'istruzione come la conosci, le professioni come le conosci, oggi diventeranno irrilevanti, perché adesso hanno creato queste macchine. Quindi, una volta che succede, molte, molte cose che impieghiamo anni ad imparare saranno irrilevanti. Stanno progettando qualcosa per cui, se un cliente arriva e dice che tipo di casa voglio, qual è la mia estetica, qual è la mia cultura, cosa mi piace, come dovrebbe essere e qual è il mio budget. Una macchina progetta una casa completa, dieci alternative differenti, come vuoi, inclusi i quadri, i pensili a muro, i mobili, le opere. Ora dicono che tra altri 5-7 anni dicono che potrà persino stampare la casa e costruirla. Quindi, immaginatevelo semplicemente, designer. Così tanti di voi rimarranno senza lavoro, a meno che non facciate qualcosa che la dannata macchina non può fare. Tutti voi dovreste prepararvi per questo adesso. Dovrete essere in grado di fare qualcosa che va oltre il vostro intelletto. L'essere umano ha molti strati di intelligenza, l'intelletto ne ha solo una piccola parte. Al momento, il nostro sistema educativo è completamente dedicato allo sviluppo intellettuale dell'essere umano e pensiamo che sia il modo più straordinario di vivere. No, non lo è. Possiamo esplorarlo se ne abbiamo il tempo, ma nel modo yogico di considerare le cose, consideriamo che l'intelligenza umana ha 16 parti. se esplori altre dimensioni di intelligenza solo allora sarai rilevante quando tutto ciò che è intellettuale intellettuale significa che il tuo intelletto non può funzionare senza dati accumulati. Sì o no? Ci siete? Il tuo intelletto non può funzionare senza dati accumulati. È così? Ora, qualunque sia l'assimilazione dei dati, l'analisi e l'esecuzione di quella analisi, una macchina lo farà meglio di te. Un essere umano può sempre fare errori, può sempre falsificare delle informazioni, ma una macchina è ben definita, farà semplicemente quelle cose. Quindi, tutto quello che puoi fare intellettualmente sarà irrilevante tra altri 10-15 anni. Quindi, devi essere equipaggiato con qualcosa che vada oltre il tuo intelletto. Quando dico oltre il tuo intelletto, ci sono molti modi di considerarlo. Farò un esempio molto semplice. Molto semplice perché, se ci addentriamo in esempi più sofisticati, dovremmo fare molta esplorazione e non abbiamo quel tipo di tempo oggi. Per esempio, cosa hai mangiato per pranzo? Maggie, ti nutri di Maggie? Qualcuno può occuparsi della sua alimentazione? Si nutre di Maggie? Ok. Anche se mangi gli spaghetti, uno spaghetto non ha la sua apparenza, non gli assomiglia a niente. ma questo spaghetto che lui mangia, entro 3-4 ore, questo spaghetto Maggie è diventato un essere umano, non è così? sì, è diventato parte del sistema, quindi stai fabbricando una macchina così complessa con degli spaghetti Maggie. è come una stampante 3-D. Ci metti gli spaghetti Maggie? no, no, io non sono fatto di spaghetti Maggie, ok? Mangio meglio di così. Ci metti dei ciapati dentro, questo diventa un corpo umano, questa è la macchina più sofisticata sul pianeta, stai fabbricando questo con qualsiasi cibo tu mangi e il cibo che mangi non è altro che il suolo su cui cammini, sì o no? E sta in piedi. Questa non è una stampante 3-D. Ci siete? Quella intelligenza esiste dentro di te oppure no? Neanche nel tuo cervello o nel tuo intestino? Sì, esiste. Sì, esiste. Quindi, se solo trovassi un accesso consapevole a questa dimensione di intelligenza, vivresti in modo magico, non è così? A quel punto l'intelligenza artificiale non ti darà fastidio, sarai molto felice perché se le macchine fanno tutti i lavori umili, che mondo meraviglioso, non vedo l'ora. grazie a tutti!